Pairos, il fuoco della cultura. Pairos è un fuoco che alimenta il dibattito, i sogni, la conoscenza e anche le risate e la leggerezza. Pairos è il contenitore della rassegna letteraria 6 senza barcode. Qui troverai i podcast delle presentazioni, le interviste e gli appuntamenti con tutti gli autori emergenti pubblicati nella collana senza barcode. Corrado De Lorenzo, in arte semplicemente De Lorenzo. Lui è un imprenditore per sopravvivenza e canto motore per vocazione. Ciao Corrado e benvenuto sulla web radio di Senza Barcode. Tu hai una bella storia perché centinaia di concerti live, tre album in studio con il power trio, il motorino di Nicola, e nel 2000 con il Corrado non c'entra, poi ci racconti anche meglio. Dal 2017 decidi di occuparti solo dei tuoi testi e da solo e esci con i dettagli cromatici. E poi a settembre esce Gregor Sanza, come Gregor Sanza, il singolo che anticipa l'uscita del tuo album De Lorenzo. Ricordo Gregor Sanza è un personaggio ideato da casca ed è uno scarofaggio. Il 18 ottobre è uscito il nuovo disco appunto De Lorenzo registrato e mixato da Riccardo Parravicini. Corrado, parla tu, raccontaci della tua storia, della tua vita, del perché per sopravvivenza fai l'imprenditore ma è cantautore per vocazione. Allora intanto, beh, ti spiego questa domanda. Campare oggi facendo scattolazione è molto difficile. Quindi o segui la via del sacrificio assoluto o la via similfrancescana o cominci a vaccinare grossi numeri o non campi. Quindi io ho una laurea in economia e l'ho usata e ho la mia attività che porto avanti. La fatica ma porto avanti. E poi ho la passionaccia della musica che l'ho sempre avuta. Come hai detto prima presentazione, ho sempre suonato in band, ho fatto alcuni lavori con band, specialmente con questo Power Crew con cui ho suonato veramente molto in tanti club in Italia e anche in Spagna. che ho suonato parecchio. E poi io ho cominciato a raccontare un po' l'idea. Il mio modo di scrivere è cambiato. Sono andato prima un EP nel 2017 con dettagli cromatici e poi il 18 è uscito questo disco semplicemente con il mio cognome, De Lorenzo, però scritto tutto attaccato. Niente, ho registrato con una amica band che ha prodotto con me il disco, l'ha arrangiato. L'ho registrato da Riccardo Coraticini che è questo bravissimo fonico che ho adorato con Nicola Fadi, con Marco Zè, con Maria De Laurentino. Insomma, è una storia importante alle spalle. Perché Gregor Sansa? Come Gregor Sansa? Sì, questo è un unico brano del mio disco che ho scritto a quattro mani con un'altra persona. Gli altri brani li ho scritti io, sia parole che musica. In questo caso invece ho fatto la musica e il testo l'ha fatto in un amico, un bravissimo sentito autore che si chiama Kama. Ho usato la metà del Gregor di Kafka, che si ritrova nel porto di un insetto. Ho usato questo mezzo artistico e questa reminiscente taziana per parlare sostanzialmente delle situazioni che ci bloccano e ci fanno vivere una vita che non è più la nostra. Un po' come il greco che si sveglia la mattina e fatica a capire cosa è successo e perché si trova lì, bloccato, guardando il soffitto. E così capita a noi quando siamo nella storia sbagliata, con la donna o l'uomo sbagliato, consumati in un lavoro che non ci piace. Di questo parla la cantora. È un invito alla liberazione, insomma, a ritrovare se stessi e a vivere la vita che ci appartiene. Beh, un invito alla liberazione, a me piace molto come riflessione. Complimenti. Bene, grazie. Per quanto riguarda il nostro articolo, uscirà una nota anche su senzabarcode.it, troverete anche i dettagli del video di Gregor Sansa che è molto bello, a me piace molto, semplice e asciutto. Io amo le cose, come si possa dire, pulite. Dogana Vecchia, ristorante e country house. Dal 1982 manteniamo viva la tradizione del nostro territorio, proponendo inalterate le ricette tipiche di un tempo, tramandate da generazioni nell'Alta Valle del Tevere. Noi crediamo nell'importanza delle tradizioni della nostra terra e nelle persone che la abitano, per questo scegliamo solo prodotti di provenienza locale per offrirvi ricette dai sapori indimenticabili. Vi aspettiamo il vocabolo Dogana Vecchia a Città di Castello, 348-649-4794. Io le amo molto, anche quando parlo di musica con gli amici, a me piace molto l'idea di sottrazione. L'ho applicata anche nel disco, nel senso che non è stato, è esistato molto bene, sembra un po' managlorioso, però in realtà è stato registrato con estrema cura, è esistato altrettanto bene. Però io ho sempre sentito l'occhio il criterio della sottrazione, cioè non è affollato di duemila suoni, di arrangiamenti troppo esagerati e barocchi, perché mi piace molto la semplicità. E questo è piaciuto anche a me, io sono convinta che ci sia vicina alla perfezione quando non si più nulla da togliere, meno elementi e pulizia. Infatti io spesso ho scelto di mettere fuoco e se metto troppo dopo ho inizi un lavoro di pulizia per togliere tutto il superfluo. Assolutamente d'accordo. Quando sarai a Roma? Allora a Roma non lo so ancora, però a breve, perché stanno arrivando date anche su Roma, nel giro di 15-20 giorni arriverà anche la data di Roma, la pubblicherò sul Facebook. E ti chiedo di tenerci aggiornati, così possiamo sia venire noi come redazione di Sinsa Barcode, ma anche i nostri lettori, i nostri ascoltatori della web radio. Cercatemi su web, ci sono diversi videoclip anche su YouTube, mi trovate come Corrado De Lorenzo, e niente, ascoltate, oppure anche nei principali, ovviamente esistono disponibili anche sui principali digital media, a Storbo, a Richama, quindi ai vari iTunes, a Amazon, su Spotify ovviamente. Cercatemi semplicemente come De Lorenzo, tutto attaccato, e potete ascoltare il disco. Allora, cerchiamo De Lorenzo e non perdetevi il video che è veramente fatto con cura ed è molto bello. A presto! Pairos, il fuoco della cultura. Pairos è un fuoco che alimenta il dibattito, i sogni, la conoscenza e anche le risate e la leggerezza. Pairos è il contenitore della rassegna letteraria 6 senza barcode. Qui troverai i podcast delle presentazioni, le interviste e gli appuntamenti con tutti gli autori emergenti pubblicati nella collana senza barcode.